Siamo a Vatamo, Jumbo Club, orange ed in viaggio, vi presento Omar che ha un sacco di storie bellissime da raccontarci. È la racconta di storia di Masai. Il Masai è prima arrivo da 500 anni dopo Cristo, arrivato dal fiume Nilo fino a Kilimanjaro vicino Tanzania e Kenya. Le Masai prima quando è arrivato in Kilimanjaro, ho visto le monti Kilimanjaro, loro pensavano che sopra il neve era luce, ho chiamato Kilimanjaro, sono due parole, Kiliman vuol dire colina, luce vuol dire Kilimanjaro, le Kilimanjaro loro pensavano che c'era Dio e sopra Kilimanjaro loro sempre pregavano Dio ogni mattina. Quindi alla fine è arrivato l'inglese, ha fatto vedere le sopra, era neve. Quindi loro dopo sapevano che c'era neve sopra, loro hanno lasciato pregare le montagne, hanno fatto pregare come le religioni cristiane. Quindi Masai è originale, era da Egitto. Grazie. Grazie a te Omar.